Quindi, mi fermo qui? Sì, sì, guarda, quello lì è il mio portone. Ah, carino, fatto bene. Spero ti sia piaciuta la cena. Sì, 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 era tutto perfetto. Oddio, a parte i signori del tavolo accanto. Certo, in effetti. Eh, lo so, avrei dovuto scegliere un posto più elegante. Mi dispiace. No, 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 no. Sono stata bene. Davvero? Davvero. Buonanotte. Buonanotte. Quant'è carino. Ma che carino fa proprio venire voglia di coccolarlo? Non come quei buzzurri che incontro di solito. E poi sembra un ragazzo serio. Sì, è vero, non guadagna molto, eh. Ma poverino è ancora un stagista. Quando metteremo su famiglia avrà fatto passi da gigante. E poi lavoro anch'io. Ah, non ci penso proprio a fare la casalinga, eh. Ah, no, non me lo chiederebbe mai. Sì, ce la faremo a mantenere i nostri due figli. O forse tre. Vabbè, lo decideremo più in là. Insieme. È vero che non gli piace ballare, eh. Ma che importa? Ci sono tanti altri interessi che condividiamo. E poi mi piace la sua semplicità. Stasera indossava jeans e maglietta. E così è raffinato, ma non costruito. Avevo un non so che di elegante nonostante la maglia della Roma. Un momento. La maglia della Roma? Oddio. Non sarà mica uno fissato con il calcio? Uno di quelli che ti costringe a stare a casa a vedere tutte le partite del mondo in tv? O peggio ancora, uno che vuole andare allo stadio con gli amici tutte le sante domeniche? Già mi vedo da sola a casa ad aspettarlo con i nostri due figli. O forse tre ancora non ha deciso. Non mi puoi fare questo. Buonanotte. Buonanotte. Ma cazzo, l'una e mezza? Ma no! Certo che pirla che sono. Proprio la sera del torneo vado ad organizzare una cena. Vabbè, dal resto lei poteva solo oggi. Comunque ne va la sala appena. La carbonara era proprio buona. Era un po' pesantina, eh. Sì, però buona. E ti pareva semaforo rosso? Ne approfitto per telefonare, va? Magari i ragazzi sono ancora a casa. Pronto? Siete ancora lì? No, sono andati via tutti. Ma che fine hai fatto? Eh, ero impegnato. E cosa avevi di così importante da fare per rinunciare al torneo della Play? Ero a cena. Con chi? Con una ragazza. Non dirmi che vedi ancora quella cretina piatta come una tavola da surf. Ma va, questa è... È tutta un'altra storia. Ah. Comunque senti, ho dimenticato le chiavi. Aspettami lì, eh. Sto arrivando. Ok. È andato a cena fuori con una proprio la sera del torneo. Non ci posso credere. Rinunciare ad una serata di birra e PlayStation con gli amici per una qualsiasi. Va che è incredibile, eh. Ogni volta tira in ballo la storia della tipa piatta. Se vedesse questa smetterebbe di prendermi in giro. Forse non è una qualsiasi. Magari, stavolta è una cosa seria. Oh. Proprio ora che abbiamo preso casa insieme. Che occhi. Certo, devo leggermi qualcosa di quel... Custurizza di cui parlava. Se no, la prossima volta la faccio io la figura del pirla. Io non ce la voglio, una fidanzatina in mezzo alle scatole. Considerando le tipe che piacciono a lui, sarà una precisina rompipalle fissata con la pulizia che avrà pure il coraggio di dire che siamo disordinati. O forse è un regista. Vabbè, comunque per stasera me la sono cavata annuendo. Deviare il discorso sul vino è stata una grande mossa. Fa sempre effetto. Addio gare di rutto libero. Addio sabato sera in discoteca. Addio vacanze insieme. Addio tornei. Allora com'è andato? Alla grande. Cioè? Parcheggio sotto casa. Partita la play? Ora sì che ti riconosco. Allora com'è andato a fare la playa. Allora com'è andato a fare la playa. Non lo voglio vedere più. Che c'è? Non cavone non ti ha pagato la cena? No, no, no. Non mi dico che è sposato. Peggio. Mica nipster? No. Indossava la maglietta della Roma. No. No. Sì. No. Sì. No. È tutto sì. Dai, dai, dai. Non fai niente. Dai. Dai che sera della razza era peggio. Sì. Ancora. Dai zitta. Ma scusa un attimo. Ma perché c'ho la mia maglietta? Questa. Eh. Eh, le mie erano tutte sporche. Perché ho un problema. Ma no, ma figurati. È che me sembrava strano. A te il caccio fa cagare. Rivencita. No. No. Yeah. ih Grazie a tutti.